Jump Force è disponibile nei negozi da circa 3 settimane e in questo periodo di tempo ho sentito numerose critiche riguardanti il roster, in modo particolare al numero dei personaggi disponibili e le serie presenti all'interno di esso, ma in pochi hanno parlato dei problemi effettivi che riguardano il vero e proprio gioco, parlo del gameplay e della modalità storia, che sono il vero e proprio problema per quanto riguarda Jump Force. Oggi vi andrò ad elencare i tre grandi problemi che secondo me affliggono Jump Force e il perché gli sviluppatori dovrebbero andare ad attenuarli nel corso dei prossimi mesi, ma prima di iniziare ovviamente, come sempre, via con la sigla! Il primo problema, come accennato nell'introduzione del video, è la modalità storia. Madonna, quanto, cazzo, è noiosa! Sembra praticamente l'anime di Naruto, costituita da 70 episodi di filler e 3 di trama. Mi spiego meglio. All'interno della modalità storia, che è divisa in missioni, quindi neanche con una continuità lineare, come può essere una vera e propria storia narrata, ma proprio dovete andare dall'NPC che vi dà le missioni e adesso vi darà delle missioni chiave che serviranno a fare ad avanzare la trama. Il vero problema è che il 70% di queste missioni sono filler. Per esempio, vai nel punto X e ammazza i Venom, che sono i nemici comuni del gioco. Vai al punto X e cerca questo, recluta questo personaggio. Questo va a rendere la storia molto noiosa per un giocatore. Infatti, a distanza di 3 settimane, la storia è ancora lì a metà, perché mi dà la nausea, è talmente noiosa da farmi odiare il gioco. Poi, ok, vi sono delle missioni che reputo carine, semi battaglie boss, se proprio così vogliamo chiamarle, che sono spettacolari, con delle buone cutscene, che anche quelle lasciamo perdere, che sono praticamente i personaggi statici che parlano, per il 90% dei casi. Solo alcune sono salvabili, perché hanno delle animazioni, delle vere e proprie animazioni. Ma la modalità storia è una grandissima bocciatura per quanto riguarda Jump Force. È noiosa, ripetitiva e snervante, perché l'hanno resa davvero troppo lunga, quando si poteva completare benissimo in 3 ore, senza tutti quei filler che sono stati andati a mettere all'interno della trama principale. Quindi ragazzi, se giocate a Jump Force, non giocate la storia. Tanto non serve a niente. Fa schifo. Proprio diciamola così, è proprio brutta, fatta male, noiosa e ripetitiva. Quindi, concentratevi sull'online o sulle altre missioni presenti all'interno del gioco. Il secondo grande problema del gioco è collegato direttamente alla modalità storia, ma in maggior modo alla modalità missione. E sto parlando dell'ingiustizia dell'AI nei nostri confronti. Se avete giocato a Jump Force in modalità single player, quindi storia, comunque modalità missioni, come ho detto qualche secondo fa, avrete notato come l'AI sia abbastanza avvantaggiata nei nostri confronti. Infatti, per quanto noi siamo livellati ed equipaggiati bene con punti abilità, oppure con le cose che si possono equipaggiare al nostro personaggio personalizzabile, l'AI ci farà sempre un bordello di danno e potrà spammare mosse finali. Questo rende il tutto molto snervante, senza poi dire il fatto che continuano a pararsi e che loro possono farti mosse speciali anche mentre li stai attaccando. Ora, non so se capita solo a me o capita a tutti, ma questa cosa mi fa davvero imbestialire. A volte mi ha fatto prendere la confezione del gioco e l'ho lanciata per aria, perché è davvero qualcosa di improponibile per un picchiaduro. E no, non capita solamente alle difficoltà più alte, capita anche a facile e normale. Quindi immaginatevi a livello di difficoltà più alto quanto possa essere ingiusta la situazione per voi e quanto dovrete incazzarvi per passare una determinata missione. Immagina, puoi, come diceva il buon George Clooney, o chi altro, adesso non mi ricordo. Comunque, il terzo grande problema che affligge questo gioco è la ripetitività. È un picchiaduro, quindi non ci si può aspettare una grandissima varietà, questo è vero. Però ho già avuto modo di giocare altri picchiaduro basati su anime e non nel corso della mia carriera videoludica. E devo dire che la buona parte di questi non mi ha mai annoiato. Jump Force invece la lunga stanca. Questo perché è molto ripetitivo, complice il fatto di avere un sistema di combattimento che è molto semplice e molto accessibile. Quindi anche per masterare un determinato personaggio ci vuole davvero davvero poco e di conseguenza rende anche inutile l'allenamento. Ora magari qualcuno che si vuole gettare nel competitivo di Jump Force mi insulterà, ma questo è quello che penso. Come me la pensano numerose altre persone. Quindi alla lunga stanca, manca quel qualcosa che tenga attaccato il giocatore per un lungo periodo di tempo. Per esempio Dragon Ball Xenoverse 2 non è un picchiaduro tecnico e mai lo sarà. Però le numerose modalità storia, missioni e ride che sono molto carine, molto diverse rispetto comunque alla modalità battaglia. Perché sei giocatori contro un boss super potente è qualcosa di diverso rispetto a un banale 1 contro 1. Rendevano il titolo più vario per evitare che il giocatore si andasse a scocciare del gioco durante il tempo. Invece in Jump Force vi è un costante 1 contro 1 che è la lunga, come ho detto prima, stanca. Di conseguenza nel corso dei prossimi mesi gli sviluppatori dovrebbero pensare a nuove modalità che andrebbero a rinforzare le modalità di gioco e di conseguenza impedirebbero al giocatore di stufarsi dopo pochissimo tempo. E voi cosa ne pensate di Jump Force? Vi diverte? Vi stanca dopo poco tempo? Vi stanca dopo tanto tempo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Il video si conclude qui, spero vi sia piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e condividere il video con i vostri amici. Vi ricordo inoltre che in descrizione potete trovare il link per la mia pagina Instagram e la mia pagina Facebook. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!